Vi ricordate il progetto Paride, quello dell'illuminazione pubblica, quello dei LED? Dal progetto Paride dobbanno arrivare circa 50 telecamere di sorveglianza per la città di Teramo, per un concetto nuovo urbanistico di sicurezza. Non sono mai arrivate e arriveranno nella visione politica dell'amministrazione d'Alberto. Nel frattempo gli atti vandalici sono sempre più numerosi. Le immagini che Simone Dosagno vi sta facendo vedere in questo momento raccontano della tabaccheria del centro di Teramo, del capoluogo. Una tabaccheria in orario serale. Guardate bene, guardate chi acquista le sigarette, guardate come si urina contro una vetrina dello stesso esercizio commerciale. La protesta di tutti i residenti del centro storico è sempre più ad alta voce. Si chiede maggiore sicurezza, si chiede attenzione, si chiede indagini, si chiede anche di multare queste persone, si chiede anche di controllare chi spaccia nelle piazze principali di Teramo. Si chiede accortezza, si chiede una maggiore presenza da parte delle istituzioni, dell'amministrazione d'Alberto e di quel grande fratello che tarda ad arrivare.